un po' vicini, anche di qua, Marracuman, distanziamoci, su via, ragazzi, lì, non facemmi furb, non siete tutti quanti congiunti. Perfetto, e in questo momento vi presento una collega con la quale abbiamo già trascorso la prima legislatura insieme, una pantera che tutti quanti conosciamo proprio come pantera. Oggi, eccola, benissimo, vicepresidente del Senato della Repubblica, Paola Taverna! Grazie. Sergio Puglia ha cambiato animale, di solito mi chiamavano la Leonessa, stasera è partito con la Pantera. In realtà, sono una donna che ha fatto un percorso importante grazie al Movimento 5 Stelle, che oggi vi rivede con tanta, tanta gioia, perché mi mancavano le piazze, mi mancava il calore delle persone che ci hanno sempre accompagnato in questa avventura incredibile, incredibile. E oggi, Giancarlo, mi ha un po' tolto le parole di bocca perché è un piacere stare qui, specialmente perché la candidata governatore di questa regione è Valeria Ciarambino. Valeria è una donna con la quale noi abbiamo collaborato tantissimo, perché lei si è occupata molto di sanità. E quanto mai è attuale questo argomento, quanto mai è attuale la necessità che una regione venga governata in maniera onesta, per poter garantire ai suoi cittadini tutto quello di cui hanno bisogno. Io quando ascoltavo i colleghi, e so che abbiamo pochissimo tempo perché poi ci sono altri interventi, ci sono i nostri ministri, immaginavo... Ma ve lo ricordate? Ve lo ricordate qualche anno fa? Qualche anno fa quando il Movimento 5 Stelle era visto come il sogno che non dovesse mai realizzarsi, come quelli che non sarebbero mai riusciti. Ecco, stiamo governando e stiamo governando bene, benissimo, nonostante tutto quello che dicono. Io ve lo dico sinceramente, lo posso dire in romano? Ni rago più, ni rago più. È un mantra, tutti i giorni, o è un giornale o è l'altro giornale o è la televisione, perché siamo impreparati e perché siamo incompetenti e perché siamo incapaci. Eppure 60 milioni di italiani in pandemia è questo governo che li ha sostenuti e per la prima volta i soldi sono andati ai cittadini e a nessun altro. Ed è per questo che io vi dico che quando andrete a votare, pensate a quello che deve accadere. Noi stiamo aspettando 200 miliardi dall'Europa, 200 miliardi ottenuti grazie al Presidente del Consiglio che è stata espressione del Movimento 5 Stelle, perché gli italiani, e fatevelo dire, perché poi io non faccio sconti a nessuno, ce l'abbiamo tutti la memoria del pesce rosso. Sembra che le cose accadono per casualità, ma guarda un po', hanno fatto il reddito di cittadinanza, hanno fatto lo spazzacorrotti, hanno fatto il carcere per i grandi evasori, hanno tolto i 10 euro del super ticket, hanno fatto i 110% dell'eco bonus, chissà chi l'ha fatto. È successo così, per caso. È andato il Presidente Conte in Europa, eravamo abituati a quello che faceva le corne di Adria Merkel, e noi siamo andati lì e abbiamo ottenuto 200 miliardi per l'Italia. 200 miliardi. Ed è solo questo il motivo per cui il Movimento 5 Stelle gli va sempre più stretto. Ed è questo il motivo per il quale dovete ricordare che quei soldi dallo Stato vanno dati alle regioni. E quei soldi, quando arriveranno alle regioni, vi dovete garantire che ci sia un governatore che pensi a voi e che non pensi sempre ai soliti noti. Quindi io con questo augurio vi lascio veramente la speranza di svegliarvi con un governatore come Valeria Ciarambini e con il Movimento 5 Stelle, non solo al governo del Paese, ma anche al governo della Campania. Grazie, grazie mille. Stai con noi, stai con noi Paola. Adesso vi presento un altro collega. Ci siamo conosciuti in questa legislatura, ma in realtà lui è stato colui che...